Bella raga, Iteslavia Praga 1-1, un bel inizio al sapore di merda per questo Champions League. Purtroppo non giochiamo bene, io è dalla prima partita che ve lo dico, che non giochiamo bene era evidente, non è che sono un genio ad accorgermi che non stiamo giocando bene. Bene, appena abbiamo beccato una squadra sia fisica che organizzata, che sa giocare, non siamo riusciti a vincere, abbiamo rischiato di perdere e ci è andata bene così. Se giochi una partita dove un giocatore come Stanciu ti pisce in faccia dall'inizio alla fine, poi va bene se la riesci a pareggiare. Grazie a un gol in mischia, su ribattuta, di Barella, mi fa piacere almeno per il ragazzo che si dà una svegliata, una bella botta d'autostima. Però ragazzi oggi è proprio roba brutta, non un fraseggio, poca idea, poco centrocampo. Brozovic evidentemente sotto tono non da adesso ma anche nella partita contro l'Udinese. E quando Brozovic è sotto tono purtroppo la squadra non gira, Lukaku sotto tono anche lui, inutile nascondersi, ma non è che sono preoccupato, che ho paura che Lukaku non faccia bene in seguito. In questo momento purtroppo sia Brozovic che Lukaku non stanno rendendo per quello che dovrebbero rendere. Vuoi la preparazione, vuoi l'inizio della stagione, vuoi che ancora non sono in condizione, ma non ci siamo. Quando tu giochi in casa con lo Slavia Praga, ci sono pochi cazzi, devi entrare in campo in un certo modo, perché questa è la Champions League, e devi vincere. Con lo Slavia Praga devi vincere, se vuoi avere ambizioni di superare il girone, perché poi alla fine queste partite le vai a rimpiangere. Anche oggi non abbiamo visto Alexis Sanchez, per carità non dico che dovesse giocare dal primo minuto, ma quando ho visto che la situazione andava in merda ho detto adesso lo butterà dentro. Si vede che ancora non è pronto, ovviamente mi fido di Conte, non penso sia un coglione che non lo vuole mettere dentro perché gli sta sulle balle. Penso che ancora non lo ritenga in condizione. Se devo mettere dentro Politano o Brozovic o Sanchez, preferisco mettere dentro Sanchez. Però dai, alla fine Politano ha fatto quello slalom nel finale che ha pescato anche la punizione. Per fortuna Sensi è uno che le punizioni le sa battere, da lì è scaturito il gol. Però rimane ragazzi, rimane quella mano in bocca, non è quel pareggio che alla fine dici ah dai, c'è cazzo era lo Slavia Praga, figa, lo Slavia Praga, vuoi dire. Vincono il campionato Repubblica Ceca, non vincono mica il campionato inglese alla Premier League, quindi. Dovevamo metterli sotto, dovevamo metterli sotto, purtroppo gli abbiamo fatto prendere fiducia, non gli abbiamo messi sotto all'inizio. Loro hanno preso delle sicurezze, che se le sono portate praticamente fino al 94esimo, queste sicurezze, e ce lo meritiamo. Ci sta eh ragazzi, ci sta tutto, perché abbiamo cambiato modulo, siamo passati da una difesa 4 a una difesa 3, stiamo cambiando tante cose. Ancora Conte non ha trovato la quadra, perché tanto a centrocampo vedo che prima ha provato Vecino, poi ha provato Barella, poi ha provato Gagliardini, poi sta giustamente cambiando, provando più soluzioni. Speriamo di arrivare presto alla quadra, ripeto. Anche perché a livello di gioco, comunque sia, potevamo comunque proporre qualcosa di meglio. Se voi state a vedere, alla fine le nostre occasioni sono scaturite tutte da calcio da fermo, praticamente tutte da calcio da fermo. Questo è indicativo che a livello di gioco di squadra abbiamo fatto degnamente cagare, no? Se non produciamo qualche bella azione, se non produciamo 3-4 azioni da gioco manovrato, da andare a sfiorare il gol, è un po' un problema, no? Comunque, niente drammi, c'è tempo. Adesso ragazzi, testa al derby, testa al derby. In Champions ne riparleremo quando sarà ora della seconda giornata. Ancora tutto è possibile, tutto si può fare. Penso che col Borussia Dortmund ce la possiamo giocare, quindi non ci fasciamo troppo la testa, dispiace tutto. Comunque, pensiamo al derby, resettiamo, ripartiamo. Ci vorrà una testa diversa, sicuramente. Ci vorrà un approccio diverso. Bisogna tirare fuori le palle, come mi piace a me, e da un allenatore come Conte sono convinto che darà questo tipo di spinta ai giocatori per un approccio alla partita più grintoso e più continuo durante tutta la partita. Ora si comincia a far sul serio, ragazzi. Vediamo di che pasta siamo fatti. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.